Oggi il 20 settembre 2018 sono pronto a mostrare lo spazio dove domani avverrà il primo giorno del weekend della pace. In questo spazio qui di messaggeriamo faremo la festa cantando e mangiando le varie delicatesse. Approfitto dell'occasione per vedere come si presenta il nuovo locale per mostrare l'ultimo lavoro, l'ultima opera d'arte fatta in mosaico da Mari Cazzanella per la festa della pace e me lo fa, me lo mostra in questo momento dentro facciamo così. Pronto. Fantastico. Bello. Bello, è il mio solindaco. Il mio solindaco è come nel tempio. Bellissimo. Marika hai fatto ancora una cosa di bella. Domani mattina ci fanno di sequestro dei cei precedenti dove c'è anche dentro il primo mosaico che hai fatto. Così li metteremo insieme vicini. Poi gioca sul tempio. Se è che non porti fortuna così. Marika ti ringrazio veramente, hai fatto un bellissimo lavoro. Fatto meglio di quello che io mi potremmo immaginare. Grazie a te. Crepe il pallizio. Bello, veramente molto bello. Ok, Marika Zanella è una bellissima che si tratta di parlare molto. Si tratta di parlare molto.